Alcuni proprietari si sentono in colpa. Perché? Perché vizzano il proprio cane. Ma non c'è colpa in questo. A meno che non sia l'unico elemento su cui si struttura il rapporto con il nostro amico a quattro zampe. Perché devi sapere che in realtà il rapporto con il nostro cane si basa su due elementi principali. Uno è il legame affettivo e in questo il cuore la fa da padrone. Ci dirà lui come gestire questo aspetto. Dall'altro lato però abbiamo un altro elemento fondamentale che è il legame sociale. È un po' come se fossero due binari e il rapporto viaggia proprio su questi due binari. Quindi sta a noi utilizzare anche la testa per coltivare questo aspetto che ci viene magari in maniera un po' meno istintiva da seguire e da mettere in atto. Ma è altrettanto importante quanto il legame affettivo. Più noi conosciamo le esigenze del nostro cane, più sappiamo dargli le giuste informazioni su come deve avvenire la convivenza nella nostra famiglia e nei confronti dell'ambiente che lo circonda, più potremo anche concederci dei vizi perché andremo a bilanciare con un buon legame affettivo anche il legame sociale e viceversa. Se io punto troppo sul legame affettivo lasciando tutto alla naturalezza e a quello che mi dice il cuore, facilmente andrò a scompensare la parte sociale. Queste due differenze a livello di gestione porteranno sicuramente in quei cani già un pochino più instabili emotivamente a delle tensioni, a delle difficoltà. Allora il modo migliore per amare e quindi anche viziare il nostro cane è conoscere le sue esigenze etologiche. Ed è qui che farà la differenza un proprietario tendenzialmente emotivo e basta e un proprietario consapevole del suo ruolo, di riferimento per il proprio cane. Quindi goditi il tuo cane, vizialo, ma approfondisci sempre di più quelle che sono le sue esigenze etologiche. Al prossimo video, ciao! Grazie a tutti!